Massimissa! Massimissa! Ho inteso che te stanno a fare i conti in saccoccia come una ruba galline, per cui me so precipitato. Volemo mettere Roma a ferro e fuoco? Roma non è catone. Amici, vi presento Massimissa, re tributario dei Numidi e Mauritania, vecchio compagno di Gloria. Come ricominciamo? Trovi un po' di cacciara per via che mi li ha portati i ragazzini in campagna per fargli cambiare, ma stiamo fra amici, sono tutti amici. Portate la beva a Massimissa. Gli famo li bozzi a Massimissa. Sta tranquillo, Sipione sta sempre in campana. Sipione è finito. Sono questi l'amici tuoi? Io li conoscevo, erano pure li miei. Fate conto, questo chi è? È Marco Valerio? Non, signore, Marco Valerio è morto e sotterato a zama. E sto berzitello chi è? È Curio Sestiglio? Non, signore, Scipio, Curio Sestiglio, non può reggere il bicchiere, per via che la lama di un carro farcato gli ha stroncato le mano. E queste chi so? Chi so ste donne? Sono le donne d'Africa che ci facevano da magna e ci facevano le ferite dopo il combattimento. E la notte facevano l'amore con noi piano piano per non farci male, perché eravamo tutti a pezzi. Queste chi so, Scipio? Queste sono mignotte! Ne sei sicuro, Barbaro? La verità ultima delle cose è inattingibile dalla rappresentazione comprensiva. Che ha detto questo? È Carnela di Sirene, un filosofo greco. Ma che te frega, Massimino? A me non mi piace sto filosofo. Per quest'altro chi è che te somiglia tanto? È di fatti, è mio fratello. Quanto c'ho di più caro? Lucio, Cornelio, Scipione. Detto anche l'asiatico per piacere. A me non mi piace sto asiatico. E sai che dolore? Oh, ma questo non dà preso. E sta buono. Ma a te se sa che non ti è mai piaciuto niente. Ma stiamo qui fra amici, ci fanno un bicchiere di vino. Per esempio, domani chi è? C'è nessuno de loro signori che mi saprebbe di domani che giorno è? Che è? Visto? Io lo so. È il 18 d'ottobre. Bravo, bravo l'imbriacone. Questo sul calendario. Ma nella storia che è? Ma che è? È l'anniversario della battaglia di Zama. Svegliate, Scipio. La più grande battaglia della storia che tu hai combattuto è vinta. E io con te. E perché hanno vinto? Ah, già, ma perché hanno vinto? Non lo so, deve essere un valore. Hanno vinto. Ma allora, chi va? Ma abbiamo vinto per fambriacarsi i quattro sozzoni? È il 18 ottobre. La battaglia di Zama. C'hai ragione, Massini. C'hai ragione, ma... Ma che davvero, davvero? Fuori! Da sta casa nonata! Fuori! Ma è matto, no io davvero! Andate via!